siamo nel dolomitia party rooms di passo di lavazzè con riccardo bernardi voi alloggiati in realtà all'alpencafè in questi in questi giorni raduno del gruppo milano cortina riccardo intanto come è iniziato questo questo era dur ma intanto buongiorno a tutti si siamo qui a passo di lavazzè che è un posto perfetto per allenarsi nei maschi alloggiamo lì negli appartamenti è un posto perfetto per fare gruppo e quello fa tanto durante tutta la preparazione perché più sei unito più te alleni meglio e poi più poi hai possibilità di andare forte in inverno e il primo giorno partita un po faticante però è da esserlo il primo di altri dieci giorni rispetto all'anno scorso come come iniziata la preparazione ma rispetto all'anno scorso devo dire molto meglio sono più tranquillo più sereno anche di testa con meno cambiamenti perché venivo da tanti anni con cambiamenti e invece quest'anno finalmente do continuità al lavoro dell'anno scorso quindi mentalmente sono molto più tranquillo e anche sicuramente mi sembra di stare meglio poi immagino che anche dal punto di vista mentale ti abbia un po aiutato anche il risultato ottenuto in coppa del mondo l'anno scorso io credo che lì forse qualcosa è cambiato in te sì diciamo che è cambiato molto anche perché finché non sei lì non sai mai dove potresti essere quanto puoi andare o non andare poi invece vedendo che c'è aver visto che se tutte le cose van bene se di scivano se io sto bene la mente la testa c'è ho visto dove posso essere dove voglio essere quindi quello mi da una bella carica una bella una bella fiducia e tranquillità e con questa carica se ne poi porti anche ancora obiettivi più alti obiettivi ancora non ne ho messi un aspetto di vedere il calendario prima cosa e poi vediamo gara gara per gara anche perché l'anno scorso mi ero messo degli obiettivi e poi ha dovuto rimodellare durante tutto l'inverno quindi vediamo però hai rimodellato bene direi no questa cosa è andata forse non te la non l'avresti neanche immaginata inizio stagione comunque risultato come quello ottenuto da te l'anno scorso no 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 non avrei mai immaginato anche perché l'inizio stagione è stato difficile l'anno scorso senza sprint infatti mi sono stati tanto vicini gli allenatori e tutte le persone a casa che sicuro hanno creduto più loro di me nella prima parte di stagione che poi mi ha aiutato tanto quindi vediamo senti quanto è portata allenarsi in questa fase anche con ella che fu parte della squadra sprint però ecco allenarsi con lui qui comunque con un alessandro chiocchetti in questo quest'oggi abbiamo visto anche il moce ma anche i giovani abbiamo giovani di altissimo livello anche nel tuo format di gara nella sprint ma sicuro stimolante divertente è meglio allenarsi con gente così perché alla fine c'è un bel gruppo completo sia dai più grandi ai più giovani c'è di tutto c'è gente forte stimolante importante questo per tutto il gruppo e anche per ogni individuo sei forte a fifa sei uno di quelli che vincono a ok niente dimenticare macchine sì ma fifa no quindi questo diciamo che non va bene il gioco scelto per questo per questo era duro va verissimo senti ti ti ringrazio in bocca al lupo grazie mille senti ti ringrazio in bocca al lupo grazie mille a dagli